Ciao a tutti, sono Andrew Pepper, questo è il mio canale YouTube. Ho 32 anni, sono un uovo in Dylan Jones della Sardegna, dove io mi dedico a interpretare un personaggio famoso che voi conoscete, è Wilson Ford, che fa la parte del famoso personaggio di Dylan Jones, di statunitense, dove va a caccia di posti archeologici nel mondo. Mi dedico a fare esplorazioni sulla Sardegna, su posti abbandonati. Mi dedico anche a posti conosciuti come posti storici, tipo del Trecento, anche in storia sulla Seconda Guerra Mondiale, dove Cagliari è stata compagata dagli inglesi e dagli americani. Io, Andrew Pepper, oltre che vado a esplorare posti abbandonati, mi dedico anche sulla natura, dove io vado a fare produzioni anche sulle grotte, miniere, e tanti altri posti, dove posso scoprire che la nostra madre terra ha voluto creare insieme con Dio, per avere le loro fantastiche, le loro bellezze che la natura ci vuole offrire. Io questa passione, queste esplorazioni ho iniziato nel 2013, quando ero un ragazzino, tutto grazie che ho iniziato a fare un corso, un piccolo corso con Marcelo Polastri, che è un giornalista, speologo della Sardegna, che il suo gruppo è la Sardegna Sotterranea. Mi hanno invitato per fare delle escursioni, per visitare la necropoli d'Origet, due di Cagliari. È stato molto interessante. e prendo uno spunto da quell'avventura, mi è venuto a conto di fare autodidatta queste mie esplorazioni e continuarle da solo, evitando gente chi vuole partecipare. e quindi un bel otto anni di esperienza e quindi è quello che continuo sempre a fare. E' una cosa che spero che durerà fino in fondo, perché quando uno ha la passione e gli piace farlo come la vuole, lo deve fare. Se uno vuole sognare di fare una cosa, deve sognare, perché è una cosa bella. Ti aiuta a esprimersi, ti aiuta a conquistare il mondo, il mondo e scoprire tante cose che l'uomo in verità non può andarci. Ma chi ha la forza, il coraggio, lui, parlo di Andrew Pepper, cresce e diventa forte. e quindi chi lo vuole fare questa cosa però deve avere molto, molto, molto coraggio e deve essere di buona salute. Questo è un grande consiglio che vi do. perché io sono molto naturalista, ambientalista e animalista e quindi voglio dedicarmi molto per entrare nella protezione civile, per proteggere la natura, perché il mio compito prima di tutto è aiutare il posto dove viviamo e poi pensiamo a noi. prima la natura e poi noi. Io penso sempre così perché sono contro il liquinamento e voglio dedicarmi a proteggere la madre terra, perché senza la madre terra l'uomo non può vivere. Io come personaggio sono un personaggio non so come possiamo dirlo, sono un passaggio un po' bizzarro. Un passaggio qualche volta faccio il comico, mi piace ridere, scherzare, mi piace andare in avventura per scoprire questi posti misteriosi, perché mi danno molta curiosità, soprattutto perché amo molto la natura, mi piace difenderla. e quindi il mio obiettivo è di scoprire tanti posti che Dio ha creato insieme con la madre terra e quindi voglio scoprire la loro bellezza, il loro mistero. E' per quello che io mi sono dedicato ad andare a caccia di misteri sulla Sardegna. perché per me la Sardegna è un'isola molto abbandonata e quindi voglio scoprire qualcosa di molto interessante. Per me la Sardegna è una cosa che se noi riusciamo a farla crescere, a farla diventare ancora più bella è rispettandola. e per quello ho deciso io di dedicarmi a fare un corso anche di protezione civile per proteggere la natura dagli incendi, per aiutare i vigili del fuoco, la guardia forestale e soprattutto le forze dell'ordine per proteggere l'ambiente e per essere supercivili per aiutare la nostra isola e soprattutto l'Italia. Mi state chiedendo qual'è il mio futuro? Io sono un ragazzo che vado molto al diretto io. Certo, un gran futuro è trovarsi un bellissimo lavoro dove posso mantenermi e trovare la mia vita. però voglio molto dedicarmi a proteggere molto la natura. Beh, mi hanno sempre criticato certi follower che è probabile che non siano quelli della mia parte, quelli che sono iscritti nel mio canale, ma diciamo che non c'è nessun problema, ma è normale. Non tutti siamo uguali, non tutti seguono le mie passioni, le mie avventure, ma a qualunque cosa loro sono liberi di fare quello che vogliono. E' importante che noi dobbiamo sentire dentro di noi le passioni che ci piacciono. A me piace fare così, mi piace essere un personaggio bizzarro, un po' pazzo, ma non c'è nessun problema. Io sono fatto così, è il mio personaggio. Infatti, l'ho sempre detto, qualunque cosa, se qualcuno vuole partecipare nelle mie esplorazioni ed essere uno del mio gruppo, uno della mia famiglia sui misteri sulla Sardegna, deve laurearsi in pazia, perché io voglio arrivare subito al fondo, voglio dedicarmi nel cuore del mistero di questa isola, e entrare il più possibile sotto terra, vedere che cosa c'è. E io ho sempre detto, non guardare mai indietro e vai avanti. Perché è ricordabile, nella vita, la vita sulla morte non comandiamo noi. Se tu vai lì e pensi che lì potesse essere pericoloso, mai non dobbiamo pensare che lì è pericoloso. Perché ricordatevi, nella vita decide Dio quando noi abbiamo finito la vita, ricordatevelo. Quindi, se voi ci trate ad andare a un posto, innanzitutto dovete stare bene di salute, non dovete avere formia e guidi. Chi vuoi seguire, uno deve essere super di buona salute. Chi mi vuole contattare, mi cerchi. Ma non pensiate che io sono contro la legge. Sbagliate. Io sono per la legge. E io quando vado a esplorare, non significa che sto andando a fare del male a qualcosa che non mi appartiene, o sto andando a fare il tipista. No. Io vado perché voglio indagare certe cose che non vanno bene sulla legge. Io vado a esplorare per scoprire, per vedere i misteri, per vedere se ci sono cose che le forze dell'ordine possono subito intervenire. E soprattutto voglio andare a scoprire se c'è pericolo sulla natura. E poi, che voi sapete, Andrew Pepper che sarebbe l'Indiana Jones, io mi dedico sull'archeologia. Vedere le cose misteriose. Le cose storiche. I disegni. I disegni voglio dire che molte volte vediamo dei simboli nelle rocce. Nelle rocce calcare. E soprattutto i fossili. I fossili di animali o di essere umano. Questo è il mio obiettivo. Per cercare le cose che l'uomo ha vissuto tantissimi anni fa. Come un giorno avevo visitato le tombe dei giganti. Le tombe di Tovigeto. E tante altre storie su Cagliari e sulla Sardegna. Quindi, se volete contattarmi, cercatemi. Cercate... Cercate su Facebook. Anderà a Palla. Principe Andrew Pepper. Ma datemi un messaggio in privato. E se volete fare qualche esplorazione, chiamatemi. Cercate qualche posto dove io potrei visitare. E portatemi. E così facciamo una produzione insieme. Però io dovrò valutare la persona con me. Se per caso esso in grado. O se lui ha le capacità di fare questo genere di esplorazione. Io voglio dirvi soltanto una cosa molto importante. Infatti, se vedete che io faccio delle cose che non vanno bene. Non fateli voi. Fateli fare solamente alle persone che hanno il coraggio. Perché esplorare, lo so, è bello. Ma è molto pericoloso. Io ho rischiato un sacco di volte. Ma ho saputo dentro di me. Affrontando tutto questo percorso. Tutti questi misteri. Sono uscito. Perché vuol dire che io ho le capacità. Infatti, farò anche un corso di speleologia. Dove così sarò super preparato. E potrò affrontare anche le cose avanzate. Ma non cercate di fare queste cose che faccio nuovo anche voi. Senza l'aiuto di qualcun'esperto. Perché è molto pericoloso. E quindi allora ragazzi. Io vi saluto. Seguitemi. Mettete un bel suo like. Non pensiate che io sia una persona arrogante. E' una persona che si crede. Una persona che lo fa per farmi arrabbiare. No. Lo faccio. Per voi. Perché così potete vedere qualcosa di diverso. Io. Soprattutto chi non conosce la Sardegna. Potete contare su di me. Qualunque cosa. Anche le forze dell'ordine. L'operazione civile. Anche i vigili del fuoco. Se vedete che io vado in posti strani. Voi potete contare su di me. Perché io sono uno che sta molto attento. Che sono contro contro il pericolo. Sono uno che sa quali sono i pericoli. E quindi per quelli che hanno esperienza. Non fate quello che faccio io ragazzi. Non fatelo. Se volete venire. O venite con me. O se no. Partecipate. Sono tante persone. Che fa Marcello Polastri. E tante altre persone importanti. Ok. Allora io vi saluto. E ci vediamo alla. Alla prossima intervista. Non so quando. Quando sarò più grande. Chissà. E quindi io vi lascio. Mi raccomando. Seguitemi. Sotto l'iscrizione. Eccolo qua. Seguitevi. Il mio canale. Aiutatemi. A arrivare a mille iscritti. E io vi ringrazierò. Di tutto. Il mio cuore. Perché io ragazzi. sto parlando di tutta l'Italia. Soprattutto la mia isola Sardegna. Vi amo tanto. Perché io vi voglio un mondo di bene. Perché per me la Sardegna. È la mia famiglia. La mia famiglia. E quindi io. Ci tengo. Alla. Alla. Alla mia. Isola. Ci tengo. Alla. Alla mio. Paese. Chiamata. La. Di Bitta. Quarto e San Telera. E soprattutto. La città più importante. Cagliari. Quindi. Forza Casteldu. Forza. Quarto. E quindi. Forza Sardegna. Ciao ragazzi. Vi saluto. Da Indiana Jones. Da Sardegna. E ci vediamo al prossimo. Alla prossima. Prossimo video. Ciao ragazzi. Alla prossima. Let's go. Alla prossima. Alla prossima.